Questo nostro amore è una commedia e racconta di persone semplici che inseguono la felicità attraverso l'amore. È ambientata a Torino nel 1967, nel periodo del boom economico dell'Italia. Torino in quegli anni è una città di immigrati, però la famiglia che noi raccontiamo è una famiglia che in realtà è di Torino, se non altro lo è lei, Anna, interpretata da Anna Valle. Neri Marcorei invece interpreta forse un marchigiano, comunque un non torinese, un non piemontese, che però si è insediato e si è inserito in questa città ormai metropolitana. C'era una cosa sul baffo? Sì, sì, l'ho fatta apposta. È brutto? Vittorio era già stato sposato e non ha mai ottenuto un annullamento. Quindi Vittorio e Anna, nonostante abbiano tre figli, non possono sposarsi. E questo allora era un reato. Il reato si chiamava concubinato. Vittorio Costa ha troppe donne, non si sa da dove, come sono, se uno è moglie, non è moglie, compagni. Insomma, siamo negli anni 60, il divorzio era prossimo a venire, la legge sul divorzio, ma ancora non era presente. C'era Costa, è lei che ne pensa il divorzio? Ah, ebbene, c'è certi argomenti così in cortile. E vabbè, ma solo per sapere se è favorevole o il contrario. Favorevole. Favorevole. Buona giornata. Questo incubo di questo annullamento delle precedenti nozze di Vittorio, che non arriva mai, sembra sempre che stia per arrivare, e che quindi la vita di Anna e Vittorio e anche delle loro figlie arrivi a essere normale è come qualcosa che non si raggiunge mai. A presto. Sono moralmente molto rigoroso e tale rigore mi creerà qualche problema a livello lavorativo. Deve affrontare, oltre ai problemi lavorativi, anche quelli all'emancipazione femminile, quindi si trova a che fare con la pillola, con la minigonna, no, la minigonna mi va bene se la vedo in giro, ma non in casa mia. Ho tre figlie, tra l'altro, questo della minigonna è un problema relativo alla prima, alla maggiore, che ha 18 anni, ma insomma anche le altre due che cresceranno. Sei bellissima! E Anna è un personaggio fantastico, perché è una donna che vive nel 67, ma che potrebbe sembrare una donna di oggi, è modernissima nel suo modo di essere proprio. E lei? Noi siamo una famiglia normale, come tutte le altre. È felice. È una bellissima storia d'amore che vede partecipi non solo questa coppia di Anna e Vittorio, ma la figlia appena 18enne, con questo amore anche lei che incontra un po' tormentato, e la famiglia strano, i vicini meridionali che sono fantastici, con quattro figli maschi invece, tutti maschi. Questo nostro amore non si può nascondere, non si può nascondere... Signor Costa, noi siamo per l'amore libero. Oh, madonna mia, sono proprio... Per l'amore... libero. E che saprò proteggerlo, questo grande amore. Per l'amore dei tolli... Non so Lalami, Opponimo